Tiro il ginocchio sinistro verso il petto, fletto lanca, spingo il tallone destro verso il soffitto, schiaccio simultaneamente e sacro nel tappetino. La combinazione di queste tre forze porta in stretching della devoluzione, qui semplicemente ad ogni inspiro porto bene l'aria nel petto, apro bene il petto ad ogni inspiro, allungo il vertice della testa verso le mani, nell'espiro lascio cadere bene il petto verso il tappetino, nell'inspiro le mani allineate alle spalle. Qui abbiamo i gomiti rivolti verso l'alto, stacchiamo contemporaneamente le mani, le spalle e la testa da terra e spingiamo i gomiti verso il soffitto immaginando di voler toccare un gomito con l'altro dietro la schiena. Adesso l'idea è questa, l'idea è quella di lavorare in alto allungamento, quindi sollevo la gamma sovrastante e con il piede vado a disegnare otto cerchietti nella parete là in fondo, movimento è lungo, controllato, l'idea è quella del piede che va in fondo, piego il ginocchio, le mani al ginocchio, collo lungo, inspiro, nell'espiro resto su con le spalle, braccia allineate alle orecchie e gamba a terra, nell'espiro le braccia circolari, porto le mani al ginocchio e spiro fuori, inspiro, mi stendo, nell'espiro mi stendo le braccia in avanti, nell'espiro apro le braccia a croce, nell'espiro mi firo i gomiti, sotto le scelte e la fronte a terra, ancora uno, inspiro, sollevo in posizione della spinge, approfitto il corpo, guardo in su, fuori l'aria, stendo le braccia in avanti, spiro, un po' giù i gomiti a terra, espiro, punto gli avampieni, inspiro, posizione cani che guarda in giù, espiro, proietto bene, il sacro verso il cielo, estendo bene la zona dorsale, lo sterno cerca il tappetino, il centro della testa cerca le mani, spiro la fronte, schiaccio il tallone sul gluteo, ancora, inspiro, estendo, guardo su, fuori l'aria, appoggio la fronte alle spalle, schiaccio sul tallone sul gluteo, ancora uno, inspiro, estendo, la mano segue, la mano sinistra segue, la spalla segue, apro la zona dorsale, apro la zona quarto chakra, nell'espiro resto e mantengo a basso le spalle, inspiro, cresco, mi allungo, apro il petto, mantieni la zona cervicale, il collo allineato allo sterno, non spingere il mento in alto, espiro, resto e passo le spalle, ancora uno, inspiro, allungo, arrivo nel petto, espiro, resto e passo le spalle. Srotolo le braccia, guerriero due, mani a terra, espiro, posizione del piegamento, piegamento, inspiro, cane che guarda in su, cane che guarda in giù. Cerco gli allineamenti, petto non è aperto, moro l'aria, fletto e cerco il centro della testa, il tappetino, prasarita padottanasana, gambe tese, piedi allineati, inspiro, sollevo la schiena, giro, linea in piedi, petto, ferro, torno su, espiro, resta, inspiro, aprile le braccia a croce, espiro, ti giro, unisci l'agante, maniscianti, samastitli. Grazie 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 Grazie